Parchimetri in tilte caos totale, in attesa della realizzazione del parcheggio da mille posti, per ora ancora in cantiere, nel disastrato biazzale antistante all'ospedale Moscati, stamane invaso fino al cancello d'ingresso anche da un cumulo di rifiuti e caccia grossa al pezzo d'asfarto. Automobilisti d'assalto di spazi utili dove tentare di sistemare la loro vettura. Un'impresa spesso impossibile considerando la carenza dei posti macchina. C'è chi aspetta ore cicunnavigando, contrada a moretta in attesa di infilarsi in un buco, chi protesta ad altavoce per l'assenza di chi dovrebbe disciplinare e vigilare per evitare il parcheggio selvaggio. Chi ticchetta alla mano contesta con vehemenza il prezzo salato e ingiustificato della sosta. Dovrei pagare la sosta in questo parcheggio salendo uno scalino di 50 centimetri e loro contestano che qua c'erano le strisce blu, vedi le strisce blu a terra? Se c'è un sindaco, un responsabile, qualcuno, che si vergognino di quello che fanno e come lo fanno, perché questa è la schifezza del sud. Tanto lei era venuto per trovare qualche paziente, non per andare a parlare, ma per andare a trovare un amico che ce l'ha fatta a non andarsene dall'altro mondo. E non perché uno non vuole pagare, ma questa è una mera porcheria. Io non pago mai niente perché sto sempre in una macchina. In che senso sto sempre in una macchina? Sto in una macchina perché mia figlia gli doveva fare una visita e mi sono messo qua, però io non pago niente. Perché non paga? Non paga il ticchetto? Perché sto io dentro la macchina, quando uno sta dentro la macchina non deve pagare niente. Sto girando da un'ora. Ancora non ha trovato un posto. Le macchinette sono rotte, quindi c'è un'altra strada. Scusatemi, ho appuntamento per la visita.